Il progetto Memos si inserisce perfettamente nell'incubatore Tender to Art che noi portiamo avanti da circa dieci anni. Memos diciamo ci racconta le lezioni di Itaul Calvino che oggi, seppur scritte nel 1985, sono perfettamente attuali e ci presentano il mondo della moda sotto una luce diversa all'interno di un contesto culturale molto più ampio di quello che siamo abituati a vedere. Il progetto Tender to Art, diciamo nato circa dieci anni fa o poco più di dieci anni fa in Tender Capital, ogni anno si occupa di trovare, di presentare progetti nuovi, tendenzialmente innovativi, in diversi linguaggi e non in settori dell'arte predefiniti. è completamente aperto soprattutto ai nuovi modi o ai nuovi mondi dell'arte, dunque come esattamente può essere quello che oggi siamo qui a vedere al Museo Pol di Pezzoli. Anche se può sembrare contraddittorio, io ho la parola che riconosco di più alla leggerezza, perché comunque noi viviamo un mondo, quello dell'asset management, che è per definizione un po' pesante, un po' di persone che si prendono troppo sul serio, dunque la leggerezza è perfetta.